Le due ville possono ospitare rispettivamente un massimo di 12 e 8 persone. Sono arredate con molto gusto, nello stile tipico della tradizione toscana in modo semplice e funzionale, così da risultare davvero accoglienti. Ogni unità si compone di ingresso indipendente e di giardino privato, corredato di gazebo, tavolo e sedie. La cucina delle ville è completamente attrezzata e arredata. La zona soggiorno dispone di tv satellitare LCD 36 pollici ad alta definizione. I bagni privati, con doccia o vasca, sono molto spaziosi e ben tenuti. Le camere, molto confortevoli, sono dotate di scrivania e cassaforte. Ogni unità dispone di proprio indipendente impianto di riscaldamento con regolazione della temperatura. Viene fornita biancheria da letto, da bagno e da cucina. Da entrambe le ville si gode della suggestiva vista della bella campagna toscana. Grazie a tutti.